Ok, non si preoccupare. Allora, stiamo qua con il mio yogurt. Ma cosa c'è finito? Sto streamer. Cosa fa? Vai in giro lo streamer. Si prende da mangiare. Deve sopravvivere lo streamer. È live da 20 ore. Ah ma va bene, fai di... Da capodanno. Allora, cosa abbiamo detto che prendiamo adesso? Renga River. Allora, ti avviso, Zig, che sono un pochino... un pochino spasato perché ovviamente sono comunque stanco. Quindi, se non riuscirò a fare, insomma, essere super efficiente per quello, sembrerò un po' ubriaco. Però vabbè, ci sei tu che mi danni a mano. E invece ragazzi, in chat, se non giochi da due settimane, vabbè, effetto, dai, non ti preoccupare. Sì, sono Draven che non flamano. È quello il fatto. Mi ha messo un Draven per perdere... è solo livello 150. Per perdere proprio, cazzo, vengono tutti. Giocalo anche tu, allora. Magari vedi il primo. No, sto scherzando. No. Mi piace bene. Com'intanto vi piace dirvi i cattiveri, ragazzi. Io ogni tanto bisogna fare anche così. Non posso sempre dirvi, ah, che carini che siete. Ogni tanto vi devo anche dire, ah, fanculo. Così vi attizzo un po'. Dovete restarmi carichi, sempre. Andiamo. Ho preso tu noione top, provo a indovinare con che c'è. Le altre lane erano fidate. Volevo tranquillamente carare, ma alla fine non l'ho sonnendato. Hai usato Mordekaiser. Mi è mai capitato di vedere dei Draven che non flammano? Il ragazzo che gioca a Ivern si sta... ...dando il pipolo. Lo sento ansimante. No, è semplicemente che parla piano. Hai metà i Comet? Beh, come cazzo è possibile? Non tanto c'è me cago, strano. C'è sempre. C'è sempre, ragazzi. Miss Fortune, champion più giocato di League of Legends. C'è sempre. C'è sempre, sempre, sempre. C'è sempre Miss Fortune, tutte e due. Mi è tornato molto. Praticamente, faccio quel messaggio che ti indicava dire che tu puoi riscattare il prossimo propone un pick e basta. Ti avvisa. Se vuoi puoi riscattarlo, capito? Ti avvisava. Sbaglio, c'è un bug mid. Eh, sì, c'è un bug mid cut. Purtroppo non l'aveva più piccato e ha preso Katarina. Va bene, come si fa a diventare... ...rivedere la gente con gli ADC? Non ho mai capito sinceramente. Sì, ma poi non mi hai più detto niente. Ti piace il fonte delle grafichette? Sì, sì, va bene. Mi piace. Ok, mi ammazza. Quindi sì. Attenzione! I mille salti di Rengar! Attenzione, Rengar River, il tuo scudo è stato decisivo in questa azione. Ma che cazzo, ragazzi! Ma porca puttana! Rivediamo i mille saltelli! Mamma, mamma mia! Adesso cambio il... ...il replay, comunque. Lo metto sopra. Madonna, ragazzi! Iniziamo bene con la due proibita. Ok. Eh, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ora il replay appare sopra alle scritte. Porca puttana. Dai, è stato figo. Dovrei avere qualche picchi interessante da proporre. Vabbè, mi faccio. Attenzione per trasmettere ai bronzi di giocare la Mechago. È impossibile. Cosa cazzo giocano? Dopo giocano sempre a Lux. Lux e peggio. Sì, Lux e Miss Forza sono i due più giocati, infatti. Ma se riscatto la ricompensa di 6.000 punti, si aggiungono anche 10 minuti? In che senso? Qual è la ricompensa di 6.000 punti? Se vuole... Due biglietti. Salterino! Pazzo, no! Pazzo, troppo in minion. Mi stava subito un sacco di danni. Ma se riesco a curarmi un po'. Fammi saltare! Oddio! Va bene. Ok. Tutto bene? Ciao Greta! Sì, siamo tutti ok. Più o meno. Sai come stai? Mi mancano giusto 54. Greta arriva sempre la notte a non salutare. Più carina. È finciata per il 3x perché cut. Bello, come mi piace come comando. Tutto ok? Qua non ci si ferma mai, Greta. Siamo arrivati a 1018 sub. Ti ti conto? Ti conto? Quindi, molto potenti. Questo Matrix che riesce a bellino, dai. Oh, benissimo. Ok. Ok. Mentre vorrei andarci però. Aspettiamo di atticcare quella Miss Fortune del Mechago. E, 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 via. Mi piace. Presa, inchiodata. Perfetto. Il cespuglio della morte. Renga River, la 2 proibita che non si può fare. Mamma mia, che potenza. Purtroppo ho inchiodato il minion. Va bene. C'era troppa roba lì davanti a lui. Oh, sta torre. Basta. Va bene. Go back. È scaduto il 3x? Ah, come? C'era solo un giorno? Ah, no, è sbagliato. Avete tutta la live per poterlo fare. Ho intentato di scappare. È esplosa come una puttana. Non è vero. Direi di lasciarla solo un po' di capo. Eh? Sta a partire, lasciala pusciare. Va bene, va bene. Non so se andare back, eh. Eh, sono troppi minion. C'è dentro dentro e muoio subito. E dammi lo scudo. Va bene, va bene. Non darmene. Ops. Come si è cliccato? Fa niente, fa niente. Fermiamo questi minion almeno. Oh, no. È arrivato Mastery. Ok. Mmm, buono, te lo fai? Fa la Q? No. Buonanotte, crap. A domani. Adesso allunghiamo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, cut. Ora potete mettere i punti. Buonasera, sono Franceschino. Buonasera. Mi è arrivato in live. Come state, ragazzi? Ok. Girus, 7 sub. A quante siamo arrivati? Come mai queste 7 abbonamente? Ah, ragazzi, vi ricordo che appunto ci sono gli ultimi minuti per donare in cui i cosi ci sono i 2x. Altrimenti dopo tutto è tutto 1x. Cosa significa poi il 2x? Significa che voi potete quando donate una sub vale il doppio. Quindi 10 minuti ogni sub. Adesso, in questo caso, l'ho donato 7 sub, quindi ha 70 minuti in più. Siamo arrivati a 55 ore. Oh, porchi! Grazie, Girus. Che potenza di percosa. Girus, primo! Top donator del mese questo mese. Dove va la BCS? Ma è già finita da un pezzo, Fabius. Mi ha piaciuto che me lo chiedate. Abbiamo perso l'instant. Eh, sì, Fabius. Esatto a metà dicembre. Ora c'è la maratona di Capodanno a compleanno. Mi live per ancora 55 ore. Attenzione. Mi ha messo troppo sotto il torre, sti bastardi. E' masterì. Uffa! Va bene. Dove ho tenuto le I.O. Bene, anche così. Buono, buono, buono. Ho ucciso il W. Ok. Perfetto, ragazzi. Tanta roba. Ma abbiamo tutte le kill del team, praticamente. Buonissimo! Perché praticamente tu hai 4 kill, io ho 4 kill, e siamo, abbiamo 9 kill. Abbiamo ucciso il Minen. Eh no. Urca, andiamo via! No! Ok, scappa. Salvati almeno tu. Ma che cazzo ci sente ovunque che combatte? Oddio! Ti vuole proprio. No, questo. Più è di possibile. Grazie davvero, Jirus. Delle sub. Quanti sub siamo? 1025 sub. Siamo arrivati a 1025. Vi ricordo che a 1200 inizio la challenge più difficile del mondo. La Z pentakill challenge. Fare pentakill con ogni campione del gioco dalla A alla Z. Secondo me per quanti mesi, quanti anni ci sarò dietro per fare pentakill con ogni champion del gioco? Ho la possibilità sette partite alla settimana. Un game al giorno posso fare un game. Quindi, che ne so, con Aatrox, che è il primo champion, potrò fare un game al giorno massimo. Quindi sette alla settimana. Come fai con sonna scusa? Eh. Come faccio con Ivern? Ve lo siete chiesti. Venta chi con Ivern? Secondo te è fattibile, Zig? Come facciamo? Buonasera, Blanks. Floppy può farlo. Ognuno è una cazzata. L'abbiamo già fatta. Floppy e poi riflarcela. Un cassa veramente corta, ve lo scuro. Ok, ci proveremo. A parte che io ce l'ho fatta, mi sembra una volta. Hai fatto pentakill con Ivern? Mmh. Certo. Molto bene. Però era on it. Allora, ragazzi, è una prossima molto difficile, molto complicata, però, che lo faremo? Da divertirsi, minchia, per un sacco di tempo. Un game al giorno per ogni champion e un game al giorno per la challenge? Un game al giorno per la challenge? Quindi, magari, ci metterò, non so, duemila partite e così la gente sa che anche gli altri hanno duemila partite. Cioè, se vogliono rifare la stessa challenge sanno che io ci ho messo duemila partite se qualcun altro poi vorrà mai farle in futuro. A me così avete un'idea di quello che farò. Perché se vi dico, ah, ci ho messo cinque mesi per farlo, però ho fatto 24 ore su 24 ogni cinque mesi, allora, vabbè. Se invece ci ho messo cinque mesi ma ho fatto un solo game al giorno, capito? Perché magari per fare questa challenge potrei metterci due anni. Però faccio solo un game al giorno perché così non mi annoio anch'io, sai, a dover giocare lo stesso champion finché non fai pentakill. Dopo un po' è noioso. Se io portassi in live solo lo stesso champion finché non faccio pentakill, penso che mi annoiereste un pochino anche voi. quindi penso che faremo così. Pentakon Gianna, buona fortuna. Grazie. Alla fine, com'è andata a finire la meca gocraft? Abbiamo abbassato tutti i cooldown perché sennò sparmavate troppe evocazioni e non riuscivo più a giocare. Ringrazio che Zoya è con l'ultima lettera, sì, guarda. Zoya sarà, penso, uno dei più difficili per me. Questi sono 55 ore, che mi mancano 55 ore prima della fine della maratona. Credo sia meglio che si giochi un campione finché non fai pentakill. Sì, potrei farlo, però il problema è che sarebbe noioso da vedere. è anche noioso da giocare per me. Quindi farò un game al giorno, a Gono. Considerate questo, io faccio 6 live alla settimana perché un giorno non streamo un sabato. Di conseguenza se faccio 6 live alla settimana di cui una è dedicata soltanto a un altro format, quindi le live diventano 5, io farò 7 partite in 5 live. Quindi magari c'è una live in cui ne faccio 2, un'altra live in cui ne faccio 2, e un'altra live in cui ne faccio 1, 1, 1, 1. Ok? Quindi magari ci sono delle live in cui farò due partite con lo stesso champion. Però dopo più di due partite con lo stesso la gente si stupa. Sì, tempesta, poi me li passi, per favore. Ah, mi ti passo meglio adesso su Discord, poi così si guarda a filmare la tona. Grazie. Quella che vuoi tu. Quella che ti piacciono di più a te. Buonanotte a te alla chat. Grazie, SD. Sì, sì, mandami chi ti pare. Cosa che sia davvero bello. Attenzione. Attenzione, sta per arrivare. Urca! Va bene. Mi è piaciuto. Forse qua dobbiamo concentrarci un po'. Sto giocando un po' in automatico, diciamo. Perché comunque se non stanco alla fine. Ma è normale. Così con il game puoi giocare Zed, vedremo. Devo fare una partita inizio live e una fine live. Meglio inizio che sono meno stanco, no? Passa, ormai buonanotte tipo buonanotte snippy. Tempesta ancora non ho visto i messaggi su Discord però sono molto deluto. Zoe la giochi o no? Sì, la giocherò domani e la zoco. Ma domani faccio le cose più difficili perché ovviamente adesso sono un pochino stanco quindi sto facendo Rangar che è sicuramente più facile da giocare di Zoe per me. Non so giocare. 50 le farei continuate? No, non le faccio continuate a Neutron. Io volevo farmi sostituire dalla mia ragazza solo che lei sia malata. Di conseguenza mi metterò a dormire però invece che farvi vedere del Just Sleeping vi metterò dei miei uncut i più belli che ci sono stati dell'anno 2021. Di conseguenza avete sempre qualcosa da vedere. Va bene è cazzata. Ho fatto una cappellata. sto morendo di sonno ma va bene adesso ci siamo che c'è la mano io non lo sappiamo forse adesso ci farà il tampone e vedremo un po'. Ok, bevo un attimo una cosa e dico Ivern Angar con chi stai giocando? Sto giocando con il doppiatore di Batman che sta giocando Ivern per noi. Ok, ci sei Minizig. Andiamo, 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 andiamo. Sono tornato, bentornato a Visencar che avete fatto? Abbiamo giocato abbiamo fatto il torneo 1-1 del Mechago a cui hai perso e adesso sto giocando Rangar Ivern prima partita dopo il torneo 1-1 del Mechago attenzione mi ultano ecco un altro Mechago ovviamente c'è il Mechago anche qua in questa partita ma adesso siamo carichi pronti? Attenzione, preso Ah, non ci arriva è troppo veloce quella Katarina si sta fiddando cioè Katarina è da 0-4 e da 3-4 andiamoci conto Allora, basta, basta adesso ci carichiamo ragazzi siamo pronti a spaccare tutto vado a trovarla Ah mamma mia guarda come scappa Mettimino Oddio Vabbè, non fa niente Mettiamo le scarpe queste qui Non ho bevuto niente ragazzi non bevo più caffè per la maratura se no non riesco a stare sveglio dopo Va a sentire Raptor ma che cazzo vuoi da me io faccio quello che voglio Sto morendo tanto Ah vabbè, ci si sta non sto ragionando molto Vabbè Zigg, ho bisogno di una mano a partitura Allora, adesso consentiamoci facciamo il culo a tutti Andiamo ci deve stare mi sforzo Mi fate questo ragazzi non è che sto io intanto sono loro che non fanno niente stanno sotto tutte le ore basta no, stank scudo e via mi sforzo non si fa vedere stanno sotto tutte le ore scappa Tutto così Non c'è niente da fare Che bello rap Staremo insieme 5 minuti Ma chi c'è da uccidere Io posso farmare i minum senza entrare ma non mi diverto Riesco ad andare a uccidere i nemici rischiando la vita Almeno mi sveglio un po' Mi piacerà Ma è che i nostri compagni stanno diventando un pochino troppo forti Vediamo Andiamoci Andiamoci Guarda 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 Ultro Oh e basta Siete visto ragazzi? Eccoci qua Bene basta Molto bene Siamo stancati di questi abusi su questo povero gattino Dovi tu? Tu lo pratico comunque vero? No Ma cazzo funziona? Ok Ok va benissimo Andiamo andiamo Ma molta vita Io voglio uccidere il Mastery Rapp tira il dado per me Mi sento fortunato Dado eh Ma cazzo Non so come l'abbia ucciso Wawwix Certamente Era in alta anche per lui in teoria però Ok Portano lì 20 secondi la ulti Non c'è spuglio se vuoi Due biglietti Eh niente scappano Ho pocagoni Ok Non dimenticatevi di fare il follow Buono 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 Mamma mia Oh E dove cazzo scappano tutti Guarda dove cazzo è andata la botling col me cago Mi dispiace Miss Fortune è arrivata la tua ora Oh E vaffanculo Oh Bam Pure lui fuori dal cazzo Andiamo beh va 3000 gold Arriva l'S Sons River Arriva un po' di cosette Altri due biglietti E ora arriva anche questo Porca puttana Ora il nostro danno è aumentato ESPONENZIALMENTE Gli obiettivi definirai entro la fine maratona Ovviamente sì Quelli che vanno vatti entro la fine maratona Riusciremo a fare tutto ragazzi Cosa mangi sto mangiando i pinoli All'altra buonasera buonasera Fasno main ben arrivato Ok Quindi ho top per te Che ne so io Ma mi sembra nello stato di risponderci Vedete che mi sto addormentando Ah Guardate qua che sonno Sono molto addormentato Sono molto addormentato E Mamma mia Vai 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 Ma mi ha scammato la kill Ok Molto bello Un tasto Oh cazzo Oh cazzo Mamma mia Ragazzi Ragazzi Ma attenzione Andiamo a fare la penta Attenzione Signori miei È il tempo Boom Esatto Ragazzi Siamo qui insieme Per festeggiare Sì Grandi raga Ottimo Bene 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 Ci siamo La prima La prima 20 kill Di stanotte Ottimo Di questa parte Della live Evviva Un po' di dance Molto molto bene Allora Eccomi Zig Tu devi sapere Quando faccio penta Kill Praticamente mi metto a ballare Quindi è successa una cosa Ho visto Ho visto La uncata delle 10 Dai in realtà Mi sto addormento in piedi Sto addormento Ma Vogliamo fare una uncata Ragazzi della uncata Ho intato troppo Inizio il game Dai secondo me Non è così divertente L'inizio Poi la gente dice Vaffanculo Ma qua La cucina Mi sto addormentato Che cazzo Guarda Cazzo Le mot per un minuto Spammate quel cazzo Che vi pare Gervate l'action mark Boh Sinceramente con tutto Sto critico Però mi sembra un peccato Però ci pensiamo Va bene Proviamoci Oddio no Mi sa che mi faccio Lord Dominic Ragazzi Guardate l'armor Di questa A 60 di armor E questo da Torme Il primo oggetto Proprio non al mitico Ho preso Torme Direttamente Troppo tancosi Ok Arrivando Non c'è più Un vero peccato Signor Nautilus Come ho fatto doppio Ero tre Ok Accetto la mia sconfitta Ragazzi Mi spiace Abbiamo bisogno Di armor pen Troppa resistenza Al rando In questa Troppo Sono VIP Grande Ogni volta Che c'è il sottone Molto lo scrive Attenzione Ione sta picchiando Di brutta la torre Ma va bene Mi piace Bannare la gente In chat Ok Non abbiamo buildato Sto Rengar Rengar esplode Build Ciao Timata Buonasera Ci sono Vado eh Adesso non resiste Più sta qua Visto Irelia Può essere fidata Quanto volete Ragazzi Ma non importa Oh porca Oh porca Oh oh E ora dove cazzo È l'ultima L'inibitore nemico Sta per rigenerarsi Dove cazzè Secondo me vuoi Porca puttana È in base Niente Ok forse posso Andarci Però mi sa Che il timer È già scaduto La tua squadra Ha distrutto Un inibitore Un biglietto Ha Ok Ok Va bene Amo il flone Molto bello Mi cago la penta Sì La penta è stata cagata Mi sa Ok Mamma mia Tripla di Warwick L'abbiamo fatta Ragazzi Va bene Ovviamente Era più difficile Fare il record Di kill O raggiungere Il 69 kill Con Rengar A sto giro Che Ovviamente Sono così Mezzo ricoglionito Comunque Ti ringrazio tantissimo Zig Per questa Performance Tu con Ivan Sei davvero Molto molto bravo Complimentato Grazie per la sera Adesso poi Ci rivecchiamo Lì in chat Va bene Grazie A dopo A dopo